salve amici andiamo avanti con il libro il transurfing in 78 giorni finalmente entriamo nel vivo primo giorno il risveglio dichiarazione risvegliatevi qui e ora siate consapevoli e ricordate tutti gli uomini sono dormienti e tutto ciò che sta accadendo intorno a voi non è più che un sogno solo questo sogno ora non ha più potere su di voi vi siete risvegliati nel sogno e ciò significa che avete acquisito la capacità di influenzare il corso degli eventi il vostro vantaggio sta proprio nella consapevolezza sentite la vostra forza la forza sarà sempre con voi se vi ricorderete di essa da ora tutto sarà come voi desiderate interpretazione la vostra nascita in questa vita è stata un nuovo risveglio dopo una serie di incarnazioni passate i sogni della realtà quando siete apparsi in questo mondo portavate con voi un bagaglio incredibile di capacità sapevate ascoltare il fruscio delle stelle del mattino distinguere l'aura comunicare con gli animali e gli uccelli tutto il mondo vi si presentava come un meraviglioso spettacolo di energia luminosa e voi ne eravate i maghi eravate in grado di gestire questa energia ma presto dopo aver ceduto all'influenza dell'ambiente circostante siete sprofondati in un nuovo sogno i dormienti in modo mirato e costante hanno tenuto fissata la vostra attenzione solo sull'aspetto fisico della realtà di conseguenza tutti i poteri magici che avevate sono andati perduti non vi sembra che la vita si svolga come in un sogno dove non siete voi a gestire la realtà ma è essa a farlo ebbene è giunto il momento di riappropriarsi della forza di un tempo bene amici per oggi è tutto ci vediamo per il secondo giorno ciao